Schieramento che si completa. Partite da Cavale del Falc 2013. Vediamo quindi tra le deputate frontrunner chi emerge, alla fine lo fa Claire Song, che si porta appunto a condurre. Seguita a largo da Noyef Day, poi Darling Filly, al quarto si è messa Anna Azzurra. Sword Huff segue in quinta posizione con a largo Air Mail, più dietro Summer Fall che chiude il gruppo insieme a Seven Shares. Claire Song in testa dunque come si pensava senza lesionare l'andatura in questa prima fase. Ha preso un paio di lunghezze di margine sulla coppia formata da Noyef Day di fuori con le maniche gialle, al suo interno con il cap arancio Darling Filly. Seguono poi Sword Huff, la favorita in giubba azzurra, con il cap nero che ha vicino in giubba viola Anna Azzurra. Poi ancora Air Mail per corsie larghe in giubba gialla e azzurra, tutta gialla invece quella di Seven Shares che chiude il gruppo insieme alla grigia Summer Fall. Sempre Claire Song in testa di terra l'andatura e senza prendere prigionieri. A secondo Darling Filly, al suo esterno galoppa sempre negli F-Day. Si mantiene a contatto Sword Huff per via interna e con Anna Azzurra di fuori. Seven Shares ancora più verso l'interno, poi Summer Fall e Air Mail che chiude il gruppo. Siamo in piegata con Claire Song sempre in vantaggio, sempre con lo stesso margine rispetto a Darling Filly che curvando l'interno ruba qualche metro Noyef Day. Muove invece adesso Sword Huff che è sempre intenzionata a venire via di fuori. Anna Azzurra inizia ad essere accompagnata, poi Seven Shares più dietro anche Air Mail accompagnata e superata da Summer Fall. In quest'ordine verso il completamento della piegata che mette in retta d'arrivo, Noyef Day risponde alle pressioni del suo gioco e prova addirittura ad andare all'attacco di Claire Song che è sempre in vantaggio. Darling Filly che si mantiene a contatto, Sword Huff che si affaccia insieme a Seven Shares per le corsie interne. In quella parte si presenta anche Summer Fall più dietro Anna Azzurra ed Air Mail e ancora in vantaggio Claire Song sotto la minaccia tedesca di Sword Huff e ancora più all'interno di Seven Shares. Le tre in aperta bagarre su Summer Fall che provano di tornare sulle altre ormai battute. Sono passate Sword Huff e Seven Shares che allungano rispetto a Claire Song ai 400 scarsi. Le due in aperta bagarre con Seven Shares all'interno su Sword Huff che è sempre un po' in crisi su questa frazione. Seven Shares che allunga su Sword Huff, ritorna a meno prova a farlo anche la stessa Claire Song ma non ce n'è. Seven Shares è in aperta spinta sul resto del gruppo. Seven Shares che chiude la sua carriera con una bellissima vittoria nel Giovanni Falc respingendo la connazionale Sword Huff al terzo Claire Song e poi Summer Fall su Air Mail e le altre tra più dietro. Niente da fare un 1-2 tedesco come era prevedibile anche se ha vinto quella meno attesa Seven Shares ma ha risposto che colpisce per Nastassia Wolf al training la stalla NSN European ai colori. Grazie. 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 Grazie.